Benvenuti e benvenute in questo nuovo video tutorial di Orizzonte Scuola sulla compilazione delle 150 preferenze per le supplenze per l'anno scolastico 2023-2024 per tutti coloro che sono inseriti nelle gradatori provinciali per le supplenze, note anche come GPS, o nelle gradatori a usarimento, note anche come GAE. L'istanza sarà aperta dal 17 luglio e chiuderà il 31 luglio alle ore 14. Possono presentare domanda tutti i docenti inseriti nelle GPS o nelle GAE che in questo anno scolastico intendono accettare una supplenza al 30 giugno oppure al 31 agosto. L'istanza si compila in questa apposita piattaforma ministeriale che trovate al link istruzioni.it slash supplenze docenti 23-24. In alternativa potete anche cercare questa piattaforma su un qualsiasi motore di ricerca digitando parole chiave come nomine supplenze 2023-2024. Per accedere alla piattaforma cliccate sulla domanda e poi su accedi all'istanza. Vi ricordo che dal 1 ottobre 2021 non è più possibile accedere con le credenziali di stanze online ma bisognerà utilizzare uno di questi servizi. Il più comune è lo speed. Una volta effettuato l'accesso visualizzerete la provincia e le gradatorie in cui siete inseriti. A titolo di esempio qua troviamo alcune classi di concorso della scuola secondaria e nonostante non ci sia stato l'inserimento specifico in gradatorie sul sostegno sono comunque presenti ADMM e ADSS. Questo perché è possibile dare disponibilità anche per supplenze sul sostegno anche se non si è in specifiche gradatorie sul sostegno. Si può infatti essere convocati dalle cosiddette gradatorie incrociate su materia. Per procedere alla compilazione cliccate su questa freccia qui a destra e accederete alla pagina principale dell'istanza. Andiamo con ordine. Al primo step abbiamo i dati personali che potete visualizzare scorrendo la pagina. Controllate siano corretti. Nel caso non lo fossero cliccate qui su modifica dati. Nel punto 2 trovate tutti gli insegnamenti per i quali potete esprimere preferenze per le supplenze. Come trovate scritto nel riquadro in azzurro se per la stessa classe di concorso si è presenti in più gradatorie è obbligatorio effettuare una scelta. Scelta che può essere fatta rinunciando nell'ultima colonna della tabella in corrispondenza di quelle gradatorie nelle quali non si vuole essere considerati. Se per esempio siete iscritti su posto comune alla primaria sia nelle GAE con riserva sia nelle GPS a pieno titolo e vorreste essere considerati solamente dalla gradatoria delle GPS basterà rinunciare a quella delle GAE. I punti 3 e 4 sono invece per gli aspiranti inclusi nella prima fascia delle GPS sostegno negli elenchi aggiuntivi che possono aspirare a delle nomine finalizzate al ruolo. In questo caso non essendo in quella condizione queste due voci compaiono in grigio e non sono cliccabili. Passiamo quindi al punto 5 che è quello in cui si inseriscono e gestiscono le preferenze per le supplenze. Cliccate in alto a destra su aggiungi preferenze, selezionate l'insegnamento, ad esempio scegliamo A27, il tipo di preferenza, cioè se volete indicare una specifica scuola o comune oppure distretto, supponiamo adesso una scuola, indicate il comune della scuola, supponiamo Pisa, cliccate su cerca e vi compariranno tutte le scuole che potete selezionare. Se volete compilare lo stesso modo più preferenze vi conviene selezionarle insieme sin da subito. Osservate che in basso a sinistra troverete aggiornato il numero di preferenze che potrete selezionare in seguito. Cliccando su avanti potrete inserire i dettagli di tale preferenze. In primis bisogna indicare le tipologie di contratto per le quali si dà disponibilità. Di default la spunta è su annuale, cioè cattedra intera al 31 agosto. Si può selezionare anche fino al termine delle attività didattiche, cioè cattedra intera fino al 30 giugno e spezzone. Anch'essi sono al 30 giugno ma sono porzioni di cattedra. Possono andare da un minimo di 7 ore, quelli di 6 ore o inferiori sono assegnati dai gradatori di istituto, fino a un massimo di 17 ore alla secondaria, 23 ore alla primaria e 24 ore all'infanzia. Supponiamo che siate disponibili ad accettare solamente un massimo di 14 ore, quindi indicheremo in questa maniera la preferenza. Se siete disponibili ad accettare invece qualsiasi spezzone non è necessario da quest'anno indicare il numero minimo e massimo di ore. Se ad esempio fosse disponibile solamente uno spezzone da 7 ore il sistema assegnerebbe questo. Se però si avesse la disponibilità eventualmente di completare lo spezzone con un altro in modo da raggiungere le 14 ore, si può dare questa disponibilità sia nello stesso insegnamento sia in diverso insegnamento o in entrambi. Bisogna inoltre specificare se questa disponibilità si dà solamente all'interno della scuola oppure nel comune, nel distretto o nella provincia. Il sistema che cosa fa in questo caso va a controllare sulle successive preferenze se riesce a trovare un completamento. Se invece non si dà disponibilità al completamento bisogna selezionare l'apposita voce su un completamento. Se si volesse modificare l'ordine di preferenza delle tipologie di contratto da quest'anno è possibile farlo semplicemente trascinando le voci. La sezione cattedra orario si riferisce alle cattedre orario esterne, le cosiddette COE, cioè cattedre le cui ore sono suddivise fra più istituzioni scolastiche differenti che possono essere nello stesso comune oppure anche in diverso comune. Le cattedre orario interne invece, le cosiddette COE, sono assegnate di default e con priorità rispetto alle COE, per questo motivo non è presente una voce apposita. Ricordo inoltre che una stessa istituzione scolastica può avere più sedi, più plessi. Di conseguenza anche con le COE può capitare di avere delle ore suddivise fra più scuole. La differenza rispetto alle COE è che queste scuole fanno capo alla stessa istituzione scolastica. Dato che generalmente i dirigenti scolastici organizzano le cattedre dei docenti verso settembre, in questo momento non sarebbe possibile riuscire a sapere se un'eventuale supplenza è su un plesso, su un altro oppure addirittura in entrambi. Quindi consiglio di controllare nei siti web delle scuole se sono presenti altri plessi dove e valutare se avete la possibilità di raggiungerli. Perché se vi venisse assegnata una supplenza e poi questa fosse su un plesso che non è quello principale, ma uno che non avete la possibilità di raggiungere, se poi non prendeste servizio, verreste sanzionati con l'impossibilità di poter avere altre supplenze al 30 giugno o al 31 agosto da qualsiasi gradatoria per tutto l'anno scolastico. Proprio a causa di questa sanzione, più in generale, è importante indicare nelle preferenze solamente ciò che si può effettivamente accettare. Cliccando su Salva, le tre preferenze appena compilate verranno inserite e visualizzate. È possibile modificare l'ordine di queste preferenze trascinandole ed è inoltre possibile modificarle cliccando sulla matita. Se si volesse eliminare una preferenza basta selezionarla e poi cliccare qua a destra su Elimina selezionati. Molti chiedono qual è il modo corretto di compilare la domanda. In realtà non c'è un modo corretto in assoluto perché dipende dalle proprie esigenze, dalla propria situazione personale. Quello che consiglio è cercare di capire come funziona l'algoritmo in modo tale da compilare nella maniera più utile secondo le proprie esigenze. In generale l'algoritmo è in grado di analizzare contemporaneamente tutte le gradatorie scorrendole nell'ordine. Per ciascun candidato scorre le preferenze nel suo ordine e assegna la prima che trova disponibile. Nel nostro esempio partirà dalla prima preferenza. All'interno di questa scuola per la classe di concorso a 27 cercherà una supplenza al 31 agosto. Prima una COI, se non la trovasse cercherebbe una COI sullo stesso comune, se non trovasse neanche questa cercherebbe una COI su diverso comune. Se non ci fosse passerebbe a cercare una supplenza fino al 30 giugno. Prima COI, poi COI sullo stesso comune, poi COI su diverso comune. Se non ci fosse neanche questa passerebbe allora a cercare uno spezzone fra le 7 e le 14 ore. Se non lo trovasse passerebbe allora la seconda preferenza e così via. Questo tipo di compilazione è preferibile per chi vuole dare priorità a determinate scuole indipendentemente dalla tipologia di contratto. Se invece si vuole dare priorità alla tipologia di contratto, magari prima si preferiscono le supplenze annuali, solo in subordine quelle fino al termine delle attività didattiche e solo in coda gli spezzoni, bisogna compilare l'istanza diversamente. Vediamo come farlo. Innanzitutto modifichiamo le preferenze togliendo tutte le spunte e lasciando solamente annuale. Ripetiamo anche nella seconda preferenza. E come vedete abbiamo le stesse preferenze di prima ma solamente col contratto annuale, eventualmente la possibilità anche di averlo tramite COE. Ora ripetiamo le preferenze ma col contratto al 30 giugno. Per farlo copiamo il codice meccanografico della prima preferenza, riclicchiamo su aggiungi preferenze, selezioniamo la stessa classe di concorso, lo stesso tipo di preferenza, quindi scuola, lo stesso comune e poi incolliamo il codice meccanografico. Cliccando su cerca visualizzeremo il codice e poi basta selezionare questa voce e cliccare su avanti. Ora anziché annuale selezioniamo fino al termine delle attività didattiche. Se vogliamo dare sempre disponibilità anche per COE selezioniamo anche queste e clicchiamo su salva. Facciamo la stessa cosa per la seconda preferenza, quindi copiamo il codice meccanografico, aggiungi preferenze e si sceglie lo stesso insegnamento, lo stesso tipologia di preferenza, lo stesso comune, il comune è obbligatorio, si incolla il codice meccanografico in modo da trovare facilmente la scuola, si seleziona, si clicca avanti, si toglie la spunta d'annuale, si mette fino al termine delle attività didattiche e poi sulle COE scegliete se dare disponibilità o meno. Adesso bisogna ripetere le stesse preferenze ma spuntando le voci sugli spezzoni. Visto che ho già il codice meccanografico della seconda preferenza salvato parto da questa e poi dopo modifico l'ordine. Bisogna fare attenzione a questo perché essendoci codici meccanografici potrebbe essere facile sbagliare, basta solamente un pochino di attenzione. Quindi la seconda preferenza era questa. avevamo deciso di dare disponibilità anche per spezzoni tra le 7 e le 14 ore con nessun completamento. E adesso ci copiamo il codice meccanografico della prima preferenza, andiamo su aggiungi preferenze e ripetiamo la stessa tipologia di compilazione anche per questa scuola. selezioniamola e nuovamente togliamo la spunta ad annuale che è la tipologia di contratto indicata di default e noi invece compiliamo lo spezzone come avevamo deciso. Bene, se vogliamo mantenere lo stesso ordine per lo che avevamo deciso dobbiamo invertire la preferenza numero 6 con la preferenza numero 5. E così via. Questo stesso tipo di ragionamento si può ripetere per tutte le preferenze che si vogliono inserire anche su diversi insegnamenti. Se vi accorgete di aver dimenticato qualche preferenza potete modificare la domanda in un qualsiasi momento. È possibile farlo anche dopo l'invia della domanda, in questo caso però bisognerà revocarla. È possibile farlo chiaramente entro il 31 luglio alle ore 14. Quindi adesso modifichiamo la domanda inserendo una nuova preferenza, stavolta ho cambiato classe di concorso e supponiamo di non volerla inserire come ultima preferenza e poi trascinarla, ma di volerla inserire direttamente tra la seconda e la terza preferenza. Quindi la nuova posizione 3 sarà di questa preferenza. Supponiamo che la vogliamo solamente annuale, eventualmente anche una coema solo sullo stesso comune e salvando vedrete che la nuova preferenza comparirà infatti nella posizione numero 3. Se prioritariamente desiderate avere delle supplenze in specifiche scuole, magari perché vicini a voi oppure perché le conoscete e desiderate andarci, è bene indicare queste scuole nelle prime preferenze. Se in subordine siete disponibili ad accettare una supplenza in una qualsiasi scuola di un determinato comune o distretto, è bene inserire queste preferenze in coda. Come al solito selezionate l'insegnamento, che può essere anche differente dagli insegnamenti precedenti e poi selezionate come tipo di preferenza comune oppure distretto. Supponiamo in questo caso di mettere PISA. Cliccando su avanti selezionate i dettagli sulla tipologia di contratto. Cliccando su salva, adesso la preferenza comparirà in coda. Compilando in questo modo, se nessuna delle prime sette preferenze fosse disponibile, quando il sistema arriva all'ottava, analizza all'interno del comune di PISA tutte le scuole seguendo l'ordine alfanumerico crescente dei codici meccanografici delle scuole. Per ciascuna scuola cerca se è disponibile una cattedra al 31 agosto o al 30 giugno e assegna la prima eventualmente disponibile. In conclusione, è importante che inseriate preferenze che contengano tutte le scuole e le tipologie di supplenze che siete disponibili ad accettare. Infatti più ne includete, maggiori sono le possibilità di riuscire a ottenere una supplenza. Allo stesso tempo è importante inserire solamente ciò che si è disposti effettivamente ad accettare. Se infatti il sistema vi assegnasse una vostra preferenza che però non potete accettare, se non prendeste servizio scatterebbe la sanzione. Una volta completate le preferenze passiamo alla sezione 6 che è per coloro che usufruiscono della legge numero 68 del 1999 e quindi in vali di civili, del lavoro, di guerra eccetera e che hanno inserito tali titoli di riserva all'atto dell'inserimento nelle gps o nelle gare. Se infatti non fosse stato fatto la sezione risulta in grigio perché non compilabile. Diverso è il caso di chi usufruisce della legge 104 che infatti è possibile dichiarare nella sezione 7. Infine nella sezione 8 vi è il riepilogo della domanda. Dopo averla controllata cliccate su inoltre per inviare la domanda. Per ulteriori chiarimenti vi rimando al sito www.orizzontescuola.it e video dei question time sul canale youtube di Orizzonte Scuola.